Musica Fiorentini, venite qui e ascoltate bene ciò che ho da dirvi. La fine si appressa ed è questo il momento di pentersi, di implorare il perdono di Dio. Ma non vedete, i segni sono ovunque, disordi, carestie, pestilenzie. Via, via, maledizione. Dovete prenderlo, ora, ora, sono qui con te. La tua mente, sento che ne sei padrone. Non a tutti serviva l'inganno per essere persuasi. Io credevo già tutto quello che ho detto è reale. Nulla è reale, non è un compito facile il mio, per cui ascati in pace. Sì, provaci pure, va! Non a tutti! Gio Vieno Grazie a tutti.